ciao ragazzi sulla live purtroppo abbiamo avuto un problema con una musica niente di grave eh non l'abbiamo fatto apposta non avevamo tutte le buone intenzioni con il copyright e l'abbiamo messo un attimo da parte la ritaglieremo questa live e poi vedremo se se sarà il caso di riproporla perché stava mandandola un messaggio bellissimo un po' per tutti i tifosi dell'intero ovvero sia quello di mettere da parte certi dissapori e di magari creare unione tutti insieme eh magari se se bisogna romperci le scatole tra di noi rompiamo le scatole a chi ci rompe le scatole che non sono i tifosi dell'intero spero di essere stato chiaro e quello che è il web che ormai il web ragazzi è un mezzo di comunicazione potentissimo non si può più scheritare il web web va a duemila all'ora io sono schifato perché io voglio dire no all'omofobia sì alla libertà di amare perché è inutile far finta di non essere omofobi quando purtroppo si è quando purtroppo magari anche il linguaggio non ti permette di nascondere la tua idea fai finta ci sono persone che fanno finta di non essere omofobi ma lo sono proprio perché non hanno quell'essio gli permette capito di rigirare la frittata è uno schifo no all'omofobia sì alla libertà di amare perché ragazzi cioè sta succedendo una roba su youtube che a me piace poco sinceramente è successo anche a me eh me l'hanno detto di tutti i colori volevano dire anche a me il mio il mio nome il mio nome e cognome me l'hanno detto cioè che poi alla fine sono sempre i soliti personaggi che secondo me non dovrebbero nemmeno accenderla una telecamera fanno finta di essere quelli che non sono ma purtroppo eh la mancanza di intelligenza la mancanza proprio capito non ti dico devi essere un laureato ma la mancanza proprio cioè persone ignoranti in tutto proprio perché cioè chi è omofobo è ignorante oltre essere cattivo e c'è gente fa finta di non esserlo quando lo è perché se ognuno c'è il suo orientamento sessuale perché quando sento dire fai outing dirlo ma perché uno deve fare outing ma dove è scritto ma perché lo deve dire è una cosa normale ma che outing deve fare l'outing lo dovrebbe fare qualche un altro a dire mi vado a curare non chi ha orientamenti sessuali uno diverso dall'altro outing lo deve fare qualcuno e si deve andare a curare ragazzi siamo arrivati a un punto qui veramente vergognoso l'aiuto qui l'aiuto qui benzemà ragazzi benzemà benzemà è un calciatore anche a 36 anni per me è stato uno dei migliori centramanti della storia del calcio per come lo vedo io questo sport perché tecnica ha bisogno di gioco piedi da trequartista assist goal testa destro sinistro ti dà profondità ti puoi giocare seconda punta prima punta lo puoi mettere sull'esterno l'ho visto giocare in tutti i modi negli ultimi 15 anni benzemà io in tutti i ruoli dell'attacco normale lui centrale è dove esprime il meglio di sé però sai un giocatore di 36 che va per i 37 o giù di lì quando tornano da questi campionati campionato arabo dove perché i giocatori stanno scappando dai campionati arabi perché non possono portare via i soldi possono portare via solo i diritti di immagine c'è un problema per portare via i soldi ecco perché molti stanno scappando perché non riescono guadagnano tantissimo ma non riescono a portarli via i guattrini ecco uno dei motivi per cui stanno scappando dal calcio arabo comunque i giocatori di l'età 36 37 anni pieni di fama pieni di soldi pieni di titoli quando vengono via da quei campionati lì è come se non si fossero allenati perché quello è un campionato di bassissimo livello capito cioè poi in sei mesi alla fine ti abitui anche a meno difficoltà capito parlo ovviamente degli avversari che vai a incontrare cioè stai giocando in un calcio molto ma molto meno competitivo cioè capito l'impatto con la serie a che a livello tattico la serie a ragazzi è ancora il primo campionato del mondo a livello tattico la serie a è ancora il primo campionato del mondo e non ti puoi permettergli trascurare soprattutto se giochi nell'inter il lato tattico almeno tu non sia Bappé Holland o qualche altro giocatore quindi guadagna tantissimo alla sua età e sta giocando a ritmi bassissimi poi sì sicuramente ci potrebbe far comodo anche da fermo come Benzema su quello non ci piove visto gli altri due che hanno giocato fino ad oggi parlo di Arnautovic e Sanchez però sai quando vieni via da quei paesi o sei giovane hai voglia di rivalza ti devi rimettere in discussione come fece Paoligno ricordi Paoligno era in Cina tornò al Barcellona e poi si conquistò il Mondiale Drogba Drogba era in Cina venne via fece un anno a Celsi ma poi dopo gli toccò scendere subito perché a Celsi non era minimamente era una quinta parte di quello che era quando non c'è prima di andare in Cina quindi sono operazioni un po' particolari capito? Io volerei un po' più basso io te l'ho detto che sarebbero i due attaccanti in Serie A ma te lo dico da due mesi da prima che incominciassero le loro ottime prestazioni sono Gutmann sono da Genova e Sanabria del Torino lo so che non sono prendibili o stanno troppo però giocano in Serie A e ti garantisco e questi due sposterebbero dal subito altrimenti io ci voglio sperare su un attaccante ma la vedo difficile ci voglio sperare ma la vedo difficile perché soprattutto Arnautovic l'Inter ha speso soldi ha sanificato Fabian tra virgolette con una recompra a 12 milioni penso sia difficile poi perché a noi non ci servirebbe vedi vedi quale è lei il problema qui si parla di quinta punta a noi non ci serve la quinta ma non ci serve la terza punta la terza punta e io ti dico guarda ad oggi nella condizione in cui è l'Inter per quello stanno dando questi giocatori io in queste condizioni qui che comunque non ci sono tantissimi soldi se non addirittura ehm zero quasi per fare mercato ti devi inventare prendi un milione di vini prendi un altro di là a me andrebbe bene anche il ciolito Simeone fidati io l'ho visto giocare a Firenze il ciolito Simeone nell'anno e fece quindici gol e cinque assist lo vedi giocare due volte a Firenze il ciolito come terza punta secondo me sarebbe buono il problema è che anche lì dell'Aurentis non te lo regala quindi di cosa stiamo ragionando voglio capire vediamo quello che succede mancano ancora eh circa due settimane alla fine del mercato però ragazzi eh la situazione l'è questa cioè Benzema Benzema e piglia dodici tredici milioni e sta giocando a calcetto parliamoci chiaro sì fuori classe sicuramente ci darebbe una mano però la vedo difficile ecco tutto qua ciao Inter